Ciao ragazzi, è da ieri che mi chiedete in tantissimi un parere su ciò che è successo al film di Demon Slayer. Film che, come sapete, uscirà prima o poi in Italia, ma purtroppo ancora non abbiamo una data ufficiale. È un film necessario, canonico, che va a proseguire la storia principale della prima stagione e va visto prima della seconda, che come sapete è stata annunciata. Non sappiamo ancora quando uscirà, ma molto probabilmente si tratta di ottobre 2021. Salvo ovviamente possibili posticipazioni perché effettivamente è strano che ancora non si sappia nulla. Ora, che cosa è successo qualche giorno fa? Praticamente la Sony, che aveva e ha tuttora i diritti del film per farlo uscire in alcuni paesi del mondo, non in Italia ovviamente, praticamente ha fatto trapelare per sbaglio sul PlayStation Store il film in alta definizione. Tra l'altro era anche a pagamento e sarebbe dovuto uscire a giugno in concomitanza con l'uscita della versione home video del Blu-ray che in Giappone non è ancora uscito, quindi praticamente è trapelato poi in tutto il mondo. Qualcuno l'ha comprato e l'ha diffuso in tutto il mondo. E ovviamente qualche fansub l'ha portato anche qui in Italia. Ciò ovviamente ha causato un bel danno economico, nonostante abbia avuto sì tutto il successo del mondo, abbia già incassato tantissimo in Giappone, comunque ora in questi altri paesi sta venendo visto in maniera illegale. E fra l'altro a venirne colpiti saremo proprio noi. Ovviamente infatti in questi giorni moltissimi lo stanno guardando illegalmente con i sottotitoli in italiano. Ovviamente non di chissà che grande qualità. Però la qualità visiva c'è perché come vi ho detto era proprio la versione in alta definizione. Quindi adesso quando uscirà questo film effettivamente in Italia, chi lo guarderà, chi lo supporterà, è questo il problema. Perché come sapete in Italia già gli anime hanno questo grande problema. E se adesso si aggiunge anche quest'altro problema, effettivamente vuol dire che avremo sempre più difficoltà a guardare nuovi anime qui in Italia. Beh, questo almeno è quello che dovremmo dire, ma se ci pensate, se vogliamo essere realisti, il film sarebbe dovuto uscire appunto in home video a giugno e quindi a giugno comunque si sarebbe diffuso illegalmente in tutto il mondo in alta qualità. E quindi a giugno sarebbero usciti di nuovo i sottotitoli in italiano e tutti quanti l'avrebbero visto. Abbiamo semplicemente anticipato le cose. Ma fra l'altro una cosa molto simile a quella che è accaduta all'ultimo capitolo di Atta Contata, in generale agli ultimi capitoli dell'opera, del manga, che effettivamente deve ancora uscire. Ma potremmo fare tantissimi altri esempi, come il film di Made in Abyss che è pure uscito, mi pare, l'anno scorso e che oramai già in molti hanno visto, perché appunto è stato visto tramite fansub, sapendo però che comunque questo film a breve dovrebbe uscire anche in Italia legalmente. Ora, qual è secondo me il punto? Non è per forza smettere di andare a vedere illegalmente queste cose prima che escono, anche se già dire illegale ovviamente non si dovrebbe fare. Però tanto lo so che tantissime persone lo fanno comunque, anche a me è capitato ovviamente. Ma la questione è cercare di supportare l'opera e quindi il film di Demon Slayer quando uscirà in Italia. Quindi, magari, che ne so, esce a ottobre 2021, esce su Netflix, andatevelo a vedere. E in realtà non mi preoccupa tanto questa cosa, perché sono sicuro che comunque lo andrete a vedere, perché tanto si è discusso di questo film sicuramente vi piacerà che poi andrete a rivederlo in futuro. Quindi in realtà ciò che è successo ultimamente con questo film non è stato nulla di particolarmente nuovo. Ok, hanno fatto questo errore, ma hanno solamente anticipato le cose, i danni comunque ci sarebbero stati a breve. Ma in realtà, come sapete, questa è una cosa che accade ovunque, non solo con gli anime e i manga, ma anche in generale con i film, le serie TV, eccetera, eccetera. Quindi, sinceramente, non ho molto altro da dire. Vi aspetto questa sera, come sempre, alle ore 21 in live su Twitch per discuterne un po' insieme, anche per andare a vedere un po' di anime news e quant'altro. Qua sotto ovviamente trovate il link. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto, seguite un mi piace se vi è piaciuto, e anche se vi è piaciuto,